Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV incidente stradale questa mattina poco dopo le 9 lungo la strada provinciale 22 la via vecchia senese nel comune di Civitella in Valdichiana dopo l'abitato di albergo ferito un centauro di 36 anni che è caduto con la moto senza coinvolgere. altri veicoli sul posto un'ambulanza infermierizzata della croce bianca di Monte San Zavino l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo per i rilevi di legge i carabinieri. Vandali prendono di mira locali della polisportiva Ruggiada che si affacciano sul lago di San Cipriano nel comune di Cavriglia la società svolge attività velica con persone disabili. a darne notizia il sindaco Leonardo degli Innocenti Osanni vergogna ha scritto nel suo post il primo cittadino che parla di uno spettacolo degradante. Sedie, tavoli rovesciati, immondizia ovunque resti evidenti di una notte decisamente sopra le righe sulla vicenda. sono già in corso le indagini ad occuparsene gli agenti della Polizia Municipale che stanno analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. E sul lato vandalico invece subito dall'ex sindaco di Castiglione Fiorentino Paolo Brandi, la cui auto è stata danneggiata proprio nelle scorse ore, il sindaco Mario Agnelli esprime una ferma condanna. Auspico ha detto e voglio scongiurare che quanto accaduto non abbia alcun tipo di collegamento con la politica, nonostante troppo spesso anche a livello verbale si alzino i toni della dialettica verso questa amministrazione, condanno fermamente l'atto vandalico che ha subito l'ex sindaco Brandi. Cambio alla guida della Guardia di Finanza di Arezzo nella caserma intitolata al generale Guido del Buono, sede del comando provinciale rettino, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica appunto di comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Il colonnello Lovito, dopo quattro anni di servizio al vertice delle Fiamme Gialle a Retine, assumerà un importante incarico presso i reparti speciali del corpo a Roma. E' arrivato invece ad Arezzo il colonnello Walter Mazzei, 51 anni, sposato con due figli, proviene da Imperia dove negli ultimi tre anni ha ricoperto l'incarico di comandante provinciale. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze operative anche in Sicilia, come comandante del gruppo Investigazione Criminalità Organizzata, e in Toscana dirigendo i nuclei di polizia economico-finanziaria di Livorno e Lucca. Cambiamo decisamente argomento, nessuna difficoltà da parte dei proprietari di cani o altri animali ad entrare in Duomo portandoli in braccio. I turisti che in questi giorni di vacanza affollano Arezzo e visitano anche il nostro Duomo sono ben felici di rispettare la richiesta fatta da Don Alvaro Bardelli, parroco del Duomo, ovvero il fatto di poter entrare all'interno della cattedrale portando in braccio i propri amici a quattro zampe. Gli animali nella cattedrale di Arezzo sono sempre entrati ed in generale non c'è una norma che lo impedisca esplicitamente, ma non in tutte le chiese è consentito l'ingresso. Non lo sapevamo, però dopo abbiamo letto che si poteva, è una cosa bella, una cosa per noi che abbiamo i cagnolini appresso, che siamo in vacanza, per l'opportunità di visitare il Duomo con il cagnolino in braccio, è una cosa positiva. Quindi non la percepite come una restrizione, ma come un'opportunità? No, no, sì, 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 un'opportunità. Dopo aver raccolto per l'ennesima volta gli escrementi proprio tra le panche della cattedrale, ecco la richiesta di Don Alvaro. Si può entrare a patto che siano tenuti in braccio. Voglio molto bene gli animali, poi sono di Cortona, perciò la mia santa, Santa Margherita da Cortona, è sempre raffigurata con un cane, perciò figuriamoci il bene che voglio agli animali, anche se non sono un animalista, perché i cani sono i cani, i figlioli sono i figlioli. E qualche volta mi sembra che oggi si esagero un po', si prendano i cani, si mettono i cani nel posto dei figlioli. Premesso questo, se c'è rispetto, io non ho nessun problema che vengano anche gli animali, purché con il rispetto per il luogo sacro. Questo è venuto un po' meno, perché purtroppo i cani sono cani, gli animali sono animali, e i padroni poco attenti, e abbiamo dovuto registrare ripetutamente episodi spiacevoli, i bisognini degli animali, dei cani in chiesa. Allora, per rispetto al luogo sacro, non credo che in teatro siano i messicani, che in tribunale e in altri ambienti siano i messicani. Ecco, siamo liberali, però, ecco, con il rispetto, e siccome l'attenzione dei padroni è venuta un pochino meno, capite che se in un ambiente, in una colonna, ci passa un cane e poi ci si fermano tutti, è inutile lavare con la varichina o altro. E anche altri effetti più spiacevoli, più spiacevoli, non mi dilungo in spiegazioni. Allora, il discorso è molto questo, è questo, benvenuti i cani in chiesa. Però dico, come ho detto anche sul giornale oggi, li vestite come bambini, mettetegli anche i pannolini, perché per rispetto al luogo sacro, è chiaro, anche gli animali più grossi, se mai portateli in braccio, non è una cosa semplice, capisco, però un minimo di rispetto. Proprio questo per richiamare, al senso del rispetto e del dovere, i padroni, non tanti cani. Ecco, per il resto, sono creatori di Dio, perciò non ci sono problemi di principio, però rispetto per il luogo sacro, sì, sempre. In ogni caso, alla fine è il buon senso e soprattutto l'educazione dei proprietari a fare la differenza. Avete letto il cartello e quindi come vi siete comportati? E quindi ci eravamo organizzati per entrare a turni, in famiglia, per tenere il cane fuori, visto che ha un certo peso e tenerlo in braccio non si poteva, ma poi abbiamo chiesto all'ingresso e ci è stato detto che potevamo entrare se il cane era tranquillo e quindi siamo comunque stati, ci siamo alternati per tenere il cane quieto vicino alle panchine, però siamo entrati col cane tenendolo, però chiaramente se le persone non sono civili e tengono sporco è giusto che si mettono delle regole, ecco. Io dico la sincerità, lo porto dappertutto, non c'è, non vedo discriminazioni. Però se lo dovesse tenere in braccio per entrare in Duomo avrebbe problemi? No, 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 perché l'abbiamo sempre portato dappertutto. E parlando ancora dei nostri amici a quattro zampe, la ciotola è servita, è una colletta alimentare proprio dedicata appunto agli animali, torna nei supermercati Carrefour organizzata da Etruria Retail in collaborazione con l'EMPA. È partita proprio oggi e fino a domenica 27 agosto tutti potranno acquistare e donare prodotti appunto per i nostri piccoli amici animali, lasciandoli nel carrello dedicato all'iniziativa all'uscita proprio dei vari punti vendita. Saranno poi i volontari dell'EMPA appunto ad occuparsi della raccolta e della distribuzione. Con l'arrivo del fine settimana avremo ancora prevalente stabilità e bel tempo, ma, dicono gli esperti, almeno fino al 25 di agosto ci saranno delle alte temperature, ancora con circa 5-6 gradi sopra la media. Ad Arezzo si potranno toccare ancora di nuovo, diciamo noi, 38 gradi di massima e 23 di minima, così sarà ovviamente anche nelle grandi città come anche nella costa. Anche a Grosseto si dovrebbero sfiorare appunto ai 39-40 gradi. Ed andiamo proprio nella Maremma con il sindaco del comune di Monte Argentario. Abbiamo appena archiviato una bellissima edizione, la numero 80 del Palio Marinaro dell'Argentario, con la quale insomma anche la nostra città ha fatto letteralmente il giro del mondo, perché grazie alle dirette social, web e anche satellitari appunto Arezzo, grazie anche alla collaborazione con la fondazione Arezzo in Tour, dicevamo ha fatto appunto il giro di tantissime città, anche oltre oceano, ma parlando di turismo anche la Maremma ci ha confermato appunto il sindaco di Monte Argentario, quest'anno soffre un po'. Come sta andando per il turismo? Bisogna essere sinceri, quest'anno non sta andando molto bene, c'è una crisi abbastanza generalizzata un po' su tutta la Maremma, la gente sta rallentando, diciamo, non sta avvenendo, soprattutto sta facendo pochi giorni, forse sarà anche colpa di situazioni economiche generali, dei costi che sono sicuramente aumentati, quindi bisogna sforzarsi anche per ricostruire un certo tessuto, quindi io mi accontento, però si potrebbe fare di più. E tra l'altro diciamo che lei ha preso in mano il Comune da poco tempo, perciò non c'era neanche il tempo utile per poter esercitare qualcosa, qualche progetto che potesse fare bene. Guarda, noi, l'ho detto da appena eletto, per noi il 2023 è un anno di transizione, una sorta quasi di commissariamento, perché su tante cose siamo entrati in ritardo, perché già state o altre di turismo sono state decise, e quindi per noi il vero Banco di Prova sarà il 2024, è lì che ci vogliamo far trovare, ci vogliamo trovare pronti e capaci di dare il servizio che noi vogliamo dare. Quest'anno da tutto, dalle feste che abbiamo organizzato, ai parcheggi, a tutto quello che in qualche modo abbiamo dovuto, diciamo, anche un po' improvvisare, insomma. La gente locale mi sembra che sia abbastanza contenta dei risultati, hanno visto un cambio di marcia, hanno visto che c'è un nostro grosso impegno. Tra l'altro c'è da dire anche una cosa, ci sono vecchi progetti che lei aveva in mente prima, che possono rifiorire da settembre in poi, con progettazioni che permettano proprio al 2024 di muoversi. Ma sì, diciamo che nel 2023 per noi è soltanto emergenza, è soltanto quotidianità, il che è importante, ma come a volte ripetuto e ribadito, per me questo terzo mandato deve essere un mandato particolare, dove riusciamo a fare qualcosa di importante, importante intendo nei parcheggi, nella portalità, nello sviluppo del territorio, in genere. Quindi per ora ci rimichiamo all'ordinario amministrazione, pur sapendo che l'ordinario amministrazione è importante, ma non è quello che serve all'Argentario. L'Argentario deve tornare a correre, deve tornare a superare quei paesi che forse in cinque anni ci hanno superato. Insomma, è questo l'impegno della nuova amministrazione. L'Osservatorio dei Cattolici Democratici Demos si è riunito per i futuri impegni, grande attenzione tra gli intervenuti, alla potenzialità e crescita culturale di Arezzo e le sue vallate. Si continua dunque con il progetto Arezzo e le sue valli, terre dei grandi, ancora più impegno per Arezzo, capitale italiana della cultura, candidatura da preparare accuratamente nel prossimo quinquennio. Il rilancio poi ancora della città della musica e grande attenzione al mondo della comunicazione a retina, essenziale il suo pluralismo, la professionalità, l'impegno comune dei mass media per la formazione civica e la crescita della comunità. Tra i progetti di Demos anche una trasmissione televisiva. Parliamo adesso invece dell'orologio di Fraternita perché è terminato il suo restauro. È terminato il restauro dell'orologio astronomico del Palazzo di Fraternita dei Laici in Piazza Grande e quindi è stato riaperto al pubblico. L'impegno è stato rispettato, afferma il primo rettore Pierluigi Rossi. Ringrazio Tommaso Sensini e Studio 3 per l'ottimo lavoro realizzato che ha consentito di recuperare colori, immagini, linee del quadrante dell'orologio nascoste dai secoli e dai precedenti restauri. Un grazie anche ad Ancos, confartigianato in prese Arezzo per il sostegno economico dato per il pieno recupero dell'orologio. Sarà pubblicata, annuncia ancora Rossi, una brochure sulla documentazione artistica del restauro e sarà aperta prossimamente una mostra su tutti i documenti cartacei scritti proprio sull'orologio nei secoli, custoditi nell'archivio storico presente nel Palazzo di Fraternita. La mostra sarà poi inserita in un progetto culturale incentrato su Giorgio Vasari che progettò la vela che ospita l'orologio dal 1552. Nel 2024 ricorreranno i 450 anni dalla sua morte e l'orologio sarà dedicato proprio a Giorgio Vasari. Un crimine, tre giovani accusati, strani individui che frequentano la città poche ore per trovare il colpevole. Sono questi gli ingredienti di una giostra fantastica, un racconto a tema giostresco dedicato ai più piccoli dai 9 ai 13 anni, scritto da Agnese Nocenti e Fabiana Peruzzi. Gli elementi appunto di questo libro per ragazzi, illustrato da Valentina Fornasari e patrocinato dal Comune di Arezzo, verranno presentati nel dettaglio proprio dalle due autrici sabato prossimo, 19 agosto, alle 11 presso il Museo del quartiere di Porta Santo Spirito. Torna il polvarone con una nuova commedia e con tante novità il titolo è già un programma. Brigitta, dammi un bacino. Una nuova commedia, una nuova performance. Sì, è Brigitta, dammi un bacino. È la nuova commedia scritta dalla Roberta. Saremo alle Poggiola per il corso Poggiolino sabato alle 21.30 molto emozionati con quattro esordienti per la prima volta sul palco. Una nuova avventura che comincia ma noi come sempre saremo alla grande. Questa volta che ti sei inventata? La trama? Questa volta è un bar. Gente che va, gente che viene anche lì, ti immagini. però a me mi è piaciuto fare una cosa. Siccome nella vita le donne spesso insomma sono vittime di mariti un po' violenti, io qui ho voluto ribaltare o per bacco. La violenza mai, né in un verso né in un'altra, ma in una commedia si può fare. Stasera tra l'altro c'è un altro appuntamento su Arezzo TV. Sì, stasera l'intervista non è casuale forse che ci fai oggi perché stasera vi era riproposto lo spettacolo era del 2016 quando sulla terrazza della Fraternita c'era una volta Piazza Grande la Roberta raccontava aneddoti, ricordi, le professioni che c'erano qui. Una serata da rivedere con grande attenzione e con grande simpatia. E per tutti i turisti che si trovano nella nostra provincia nel nostro territorio vi consigliamo stasera una mostra davvero da non perdere. Michelangelo Rapito capolavori in guerra dagli uffizi al Casentino è visitabile al Castello di Poppi fino al prossimo 28 di gennaio. Il servizio. La grande bellezza salvata proprio qui al Castello di Poppi che assieme alla Monastero di Camaldoli a Villa Bocci di Soci divenne tra il 1940 e il 1944 una straordinaria roccaforte di protezione per le opere d'arte. Arrivarono proprio qui al Castello di Poppi in questa sala dove è stata allestita la mostra capolavori come il Tondo Doni come la nascita di Venere come le opere di Leonardo. Oggi il Castello ospita prestiti delle gallerie degli uffizi e le immagini più importanti dei dipinti e delle sculture messe al sicuro durante la seconda guerra mondiale. La mostra Michelangelo Rapito capolavori in guerra dagli uffizi al Casentino visitabile sino al prossimo 18 gennaio rientra nel programma degli uffizi diffusi. In un percorso storico artistico con delle foto suggestive bellissime che provengono dal gabinetto fotografico degli uffizi i documenti originali dei registri d'arrivo delle opere. Dagli uffizi è arrivato il ritratto di Giovanni II Bentivoglio di Lorenzo Costa e la copia in gesso del fauno perduto di Michelangelo una delle protagoniste più misteriose ed affascinanti della mostra. fu trafugata probabilmente insieme alle altre casse nell'agosto del 44 dove è andata ancora non si sa è un mistero da quel giorno sono diventato per molti un'ossessione e plena di ogni opera dei trovari nell'assenza e incessante ricerca ho trovato la mia consacrazione a completare il percorso espositivo una mostra immersiva permettono un'esperienza incredibile nella storia di questi capolavori che sono stati gli emblemi del rinascimento ma che di fatto hanno avuto una storia incredibile anche durante la seconda guerra mondiale. Giovedì prossimo 24 agosto alle 18 presso la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo la presentazione del libro Cento anni di Amaranto Stefano Butti autore del libro già presidente del museo Amaranto ripercorrerà la storia appunto dell'Arezzo calcio in questo anno davvero magico per i colori Amaranto l'ingresso sarà libero ed infine una nota invece di sport perché è stato fissato l'esordio per la formazione Amaranto dell'Arezzo calcio femminile nel prossimo campionato di Serie B sarà il 17 settembre tra le mura amiche contro il Ravenna e già alla terza giornata le Amaranto affronteranno la corazzata Lazio e il campionato poi si chiuderà a Bologna contro appunto la formazione locale è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio allora con il polvarone grazie per l'attenzione e arrivederci